Stefano Senigallesi riparte da Nereto dopo un'annata che non è stata semplice, quella di Agnone, con quali prospettive, con quali ambizioni? Speriamo con un po' più di serenità, primo, perché è stata un'annata probabilmente la più brutta della mia carriera, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano. E detto questo è un passaggio che comunque non rinnego, Agnone è stato un paese bellissimo, persone brave, gentili, educate, però purtroppo sono capitato nel periodo sbagliato, altrimenti sarebbe stato comunque piacevole anche la permanenza di Agnone. Detto questo siamo in una realtà totalmente diversa, con grande entusiasmo, con grande fiducia, cerchiamo di entrare in una nuova realtà che credo abbia una gran voglia di ritornare dove è già stata e per tanti anni. Una stagione di esordio per il Nereto nella quarta serie, come se l'aspetta Senigallesi? Siamo curiosi, come credo lo sia tutto il paese, siamo curiosi di vedere come risponde il paese, siamo tanto tanto attenti a cercare di essere il più logici possibili per dare un prodotto comunque adeguato alle esigenze di questa realtà. In attesa della definizione degli organici in serie D è andato via il campo basso, che tipo di campionato si aspetta Senigallesi senza una vera e propria ammazza campionato? Il campo basso era partito in maniera nettamente superiore alla media e poi alla fine si è dimostrato. Per il momento mi sembra che ci siano già comunque altri pretendenti, perché penso che Pineto e Notaresco siano già belle avanti per tentare di fare quello che ha fatto il campo basso. Per il resto bisogna aspettare perché siamo ai primordi dell'inizio, quindi il mercato ormai è diventato altalenante, non si fa più come una volta che le cose venivano decise e definite all'inizio, ma si va in itinere, quindi per il discorso anche dei fuori quota, quindi penso che sia meglio aspettare prima di fare brutte figure nel dare giudizi. Qui ci sono delle persone molto competenti, a partire dal presidente che ringrazio per avermi dato questa opportunità, ma tutti, il direttore sportivo, gli operatori di mercato, sono tutti veramente all'altezza e ogni giorno mi impegnano troppo tempo che non vorrei perché hanno tantissime idee e mi sembra tutte all'altezza. Pian pianino faremo in modo che saremo adeguati alla categoria. L'ultimissima, la coppia Senigallesi del Grosso come la vede? Le immaginavo la domanda, è un onore per me perché comunque lui si è dimostrato un ragazzo di un'intelligenza e di una disponibilità incredibile, lui ha fatto un percorso troppo frettoloso su richiesta della società e credo che sia stato anche messo un po' in difficoltà dalle situazioni. Però è un ragazzo intelligente che sarà la parte integrante del mio percorso e sono sicuro che lui farà la differenza più di me.